Un cordiale buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni. Traffico regolare su tutta la rete stradale, autostradale e toscana. In A12 fare attenzione a materiali dispersi tra Massa e Carrara in direzione Genova. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata a causa di lavori tra Fonte Blanda e Montiano in direzione Grosseto. Sulla statale 12 dell'abitone del Brennero senso unico alternato per lavori tra bagni di Lucca e fabbriche. Uno sguardo a Firenze, cantiere della tranvia, partiranno lunedì 27 i lavori di aspattatura in via di Novoli legati alla linea 2. Previsti restringimenti di carreggiata ma non è esclusa la chiusura completa a base in alcuni tratti. Chiudiamo con i treni, l'Intercity 35151 diretto da Milano a Livorno. Viaggio con 22 minuti di ritardo, ferma a Pisa alle 10.39, arriva a Livorno alle 10.57. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!